Ok, va bene. Nome e cognome? Francesco Paolo Cavarretta, sempre, sempre Francesco Paolo Cavarretta, io sono. Nella vita fate? Facciamo teatro. Ci direttiamo un po' a far divertire la gente, anche gratuitamente, anche per i bambini, ci direttiamo per i sociali, soprattutto. E perché non ha la possibilità di pagare il teatro, noi lo facciamo divertire, ci piace. Da chi avete saputo che ci erano questi domini? Dal giornale. Dal giornale Polis. E poi anche su internet, siamo andati, abbiamo visto tutta la... Infatti vogliamo cercare di fare qualche cosa anche per poi andare più avanti, siamo emergenti, ci divertiamo a fare qualche cosa. A tutti e due siete emergenti? Io sono un po' che non c'è crescente, lui è emergente. Io ho i capelli bianchi, a me ci stanno domandando, quindi siamo quasi alla pari. Quindi... A Edo lo contano perché si può fare una tentazione, perché la mezza potrebbe andare a fare più media. Perché non è... Mi pareggio San Giuseppe, non lo pasiato. E perché dovremmo scegliere tutti e due o uno solo? Allora, ci scegliete tutte e due. Io normalmente faccio l'attore, diciamo, mi direi. Lui è quello che scrive e regisse. Dirige un po' la situazione della compagnia e scrive. Quindi ci dovreste scegliere perché facciamo una bella coppiata insieme, quanto abbiamo quasi tipo, abbiamo le battute insieme, quindi siamo molto sintonizzati. Io ho scritto circa 40 commedie, tutti del spaccato siciliano, la vita siciliana, di cui li ho tutti rappresentati in teatro, in piazze, sempre per il sociale, per la leucemia, l'autismo. Dovete scegliere perché noi non riceviamo soldi, ma ci pagano con gli applausi, la gente e coloro servizio. Il 6 settembre dell'anno scorso abbiamo fatto pure una giornata per la SMA, la profeia muscolastinale a Tomellacolio, dove c'era circa 17 primari di tutta Italia. Ci direttiamo, ci chiamiamo in associazioni per fare spettacoli all'apertura dell'estate, con il chiuso, ci divertiamo. Adesso ve li posso chiedere i profili da un lato e dall'altro, davvero belli, quindi... Aspetta, ma di tutto che profilo vuoi? Il lato B, io non lo faccio vedere male. Se vuole possiamo fare anche un piccolo scherzo da 30 secondi, va. Sì, bene, altri. Va bene, grazie. Ciao, ciao, ciao.